Un predominio territoriale da parte dell'Ilva con molte situazioni da pallina attiva natte probabilmente da giocate superficiali da parte nostra. Abbiamo concesso troppe punizioni dalla tre quarti e qualche calcio d'angolo di troppo secondo me per giocate per errori nostri individuali. Non abbiamo corso però sinceramente pericoli importanti. La seconda parte della partita invece come ho detto prima mi è sembrata un po' più aperta come gara. La prima parte della partita l'ho definita sporca nello spogliatoio dicendo che era una partita dove bisognava stare sul pezzo perché da un momento all'altro poteva nascere qualcosa sia a favore che contro. Perché queste partite quando sono così bloccate l'episodio può poi determinare la situazione. L'episodio ce l'abbiamo avuto noi a nostro vantaggio. Abbiamo fatto finalmente gol su palla inattiva cosa che non ci riesce molto frequentemente. Questa volta invece siamo stati bravi. Abbiamo rischiato di farlo pure dopo su un calcio d'angolo con una palla che è stata spizzicata da Mancoso sul primo palo e poi invece è andata nuovamente in calcio d'angolo. Poi è arrivato l'episodio del rigore. Credo che sul rigore ne vediamo di tutti i colori durante le trasmissioni sportive. Oggi era una di quelle situazioni che probabilmente avrebbe scatenato un'infinità di discussioni anche a livelli più alti. L'arbitro ha deciso che era calcio di rigore. Secondo me ha sbagliato sia prima sia durante la gestione del calcio di rigore sia dopo quando ha espulso il giocatore dell'Ilva Maddalena. Tre errori che li spiego tutti. Il rigore generoso. Il parapiglia finale probabilmente poteva portare all'espulsione del nostro portiere che 30 secondi prima era stato ammonito per il fallo. Poi invece salamonicamente ha ammonito solo il giocatore dell'Ilva. Secondo me lì è finita la partita dell'arbitro che fino a quel momento a mio avviso ha fatto una buona gara. Poi invece da lì in poi è andato un po' in confusione e interpreto anche come confusione l'espulsione che ha decretato per fallo da ultimo uomo che non capisco nel senso che era un corpo a corpo che ce ne sono 150 se fosse stato fallo per il difensore cosa avrebbe dovuto fare? Ammonire il mio giocatore perché il regolamento dice che non ti puoi espellere. Ecco, secondo me lì è andato un po' in confusione. Peccato poi perché c'è stata una giocata importante di Matteo Mancosu che ha fatto vedere di che pasta è fatto perché è partito da centrocampo, ha saltato tutti e poi ha peccato a mio avviso un po' di egoismo non andando la palla a Pirodi perché l'avrebbe messo in condizione probabilmente di segnare il 2-1 e lì la partita sarebbe a mio avviso finita. Pareggio che ci soddisfa? Sì, perché comunque siamo venuti a farlo in casa di una squadra pur essendo neopromossa sta facendo un campionato importante è un pareggio che ci dà comunque una continuità dei risultati perché avevamo fatto due vittorie andando a vincere ad Arzachena in Coppa Italia l'ultima partita in casa, in campionato stavamo cercando continuità probabilmente oggi l'abbiamo trovata perché la squadra ha sofferto, ha reagito, ha combattuto e alla fine secondo me strappa un punto strameritato in un campo tra le altre cose molto difficile e io quando abbiamo fatto la prima vittoria in casa c'è un lapsus, non ricordo, va bene abbiamo fatto la prima vittoria in casa ho detto che la squadra mentalmente non era ancora guarita continuo a sostenere questo perché probabilmente il peso delle attese diciamo così, la mancata realizzazione delle attese sul campo ha creato un po' di pressione perché di fatto questa è però ne stiamo venendo fuori perché ci siamo ritrovati tre settimane fa a parlare di come stavamo andando pensando che sicuramente all'inizio del campionato nessuno si poteva immaginare che a questo punto occupavamo allora l'ultima posizione in classifica e pian piano secondo me stiamo guarendo da questo male perché ripeto, venire alla Maddalena a fare una partita importante non era facile non era facile voi per l'entusiasmo che ha la squadra tra i valori tecnici e tattici che porta dietro con giocatori importanti che hanno fatto la categoria Alto Laguirre l'anno scorso all'Uri ha fatto un grandissimo campionato e quest'anno si sta ripetendo senza considerare poi tutti gli altri giocatori che stanno facendo in questo momento un gran campionato senza dimenticare che a guidare la truppa c'è Aldo Gardini che è un allenatore navigato e che la categoria la conosce come le sue tasche non ho visto il contatto ma non perché non ci sia stato il contatto perché ho seguito con lo sguardo la palla e ho pure soffiato per farla andare lì di lato e quindi onestamente non ti so dire se c'è stato il contatto fortuito se il contatto c'è stato ho solo guardato e ho anche esultato come se avessimo fatto un gol quando ho visto che la palla era fuori poi mi sono accorto che ha fischiato e mi sono reso conto che era calcio di rigore solo in quel momento però credimi non ho visto non ho visto il contatto sono stato pure ammonito perché ho tenuto a bada il segretario che continuava a protestare e io chiacchieravo cercando di spostare l'arbitro è ammonito a me non c'entravo niente infatti lì gli ho chiesto la spiegazione e la spiegazione dell'arbitro è stato è calcio di rigore perché non si è concretizzato il vantaggio vi porto una testimonianza proprio testuale dell'arbitro infatti io a quella risposta ho chiesto ma scusami quale è il vantaggio dopo che il calciatore calcia avesse colpito il palo secondo me se c'è stato contatto era a rigore perché non essendoci il contatto prende il palo ritorna da me e io faccio gol col portiere a terra ma se la palla va fuori dico e dov'è il vantaggio che si deve concretizzare boh non lo so questo è così come l'ho vista io grazie a tutti